Siamo a centro del mazzo Proviamo 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 Non mi mette l'illusione quando si danno le carte che le carte ci vanno in marzo Ricordate che voi non sapete che La lada di Moriera quindi è stata la massima attenzione Aspetta però Forse hai fatto un errore perchè 6 giocano assolutamente Poche di 10 giocano assolutamente però questo è un assoluto Poche di 9 giocano assolutamente però questo è un assoluto Ma vedi che gli assi possono uscire realmente da 100 spazio No 3 assi Non è un'altra Ma non solo se non sbaglio Ci serve una scala reale massima di caratteristica Grazie 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 Grazie